Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Eternal L'ultima volta ci siamo lasciati qui In verità però ho esplorato un po' tutto il mondo e ho trovato delle strutture veramente interessanti Vi avevo anche permesso delle cose ma ci arriveremo dopo Intanto vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina in caso non l'aveste ancora fatto In modo da non perdervi mai nessunissimo video Detto questo guardate qua ho finalmente il portale Come l'ho fatto, come l'ho fatto la prima volta Ma semplicemente ci ho buttato dentro un diamante e si è attivato per fortuna I diamanti li abbiamo presi da laggiù che c'è la tana del drago Tana del drago che affronteremo Perché sì ragazzotti io ve l'ho chiesto e tutti quanti nei commenti mi avete detto Tano sì vado ad affrontare vado ad affrontare e lo andremo ad affrontare Ma non ci fermeremo qui perché oggi ragazzi non affronteremo solo questo drago Ma anche altri e dopo vi spiego il perché Intanto mi è stato consigliato di andarci prima di tutto d'arco Ora siccome ho 54 frecce che non sono tantissime Prima di tutto uso questo arco qui che è infiniti Magari lo consumiamo un pochettino e poi ci andiamo con l'altro arco Quindi svegliamolo perché ragazzi andare subito di spada mi sembra un pochettino una pazzia Ecco si è svegliato E ora è incazzatissimo Vedete di danno non mi ha fatto praticamente nulla Però il fatto è che deve assolutamente uscire da lì Perché se rimane in quel posto io non ci posso fare molto Ehi fermi tutti Aiooo non è giusto così Oh pazzo ma io lo posso colpire? No raga nooo Io io l'ho colpito dal buchettino che stava qua In questo caso la meglio quale sarebbe? Favo racchiare qua così? Aio 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 ha sfondato tutto Ha sfondato tutto Mascaraventato via tantissimo E' uscita la testa Ragazzi in teoria lo posso colpire E' buggatissimo Oh yes L'abbiamo buggato un botto Beh intanto finché con quest'arco gli spammo le frecce così Mi sembra la cosa più onesta da fare Beh onesta non troppo devo dire Oh oh ha aperto tutto Ha aperto tutto Ok ok questo è un problema Cioè non è un problema in verità E' ciò che volevo io Però ho paura che mi possa fare tanto tanto male Quindi continuiamo Magari anzi forse è arrivato il momento di switchare arco Carichiamo bene le frecce ragazzi Non dovrebbe avere ancora tantissima vita Cioè dovrebbe avere ancora tanta Ma non tantissimissima Ok oh ha ancora 900 ragazzi Ha ancora 900 Però guardate quanto gli leviamo E' impressionante Sfudo No raga mi vorrei allontanare un attimo Però perché la mia armaturina sta cominciando a cedere tantissimo E la cosa non mi fa impazzire Guardate raga Gli utilizzi Mamma mia Guardate raga quanto me l'ha consumata E' a metà vita tipo Quindi ora devo inventarmi qualcosa Però è rimasto lì Ma forse se lo attaccassi da qua sopra quindi Beh gli posso prendere il piedino E nell'acqua mi sembra abbastanza confuso Eh raga Devo fare per forza in questo modo Perché se no Mi spacca l'armatura Noi resistiamo Il drago lo possiamo affrontare senza problemi come avete visto Ma il fatto che mi vada a rompere l'armatura E' una cosa che veramente non posso accettare Cioè se no ragazzi Non torniamo a casa Ve lo dico C'è il portale lì in effetti però Quella è un'altra storia E' morto L'ho ucciso con l'arco E' usato pochissime frecce tra l'altro Wow ragazzi Finalmente siamo riusciti a uccidere il drago Tra l'altro guardate quanto si è riparata l'armatura Con tutta la sua esperienza Allora mano libera come sempre Clicchiamo col destro E vediamo cosa ci droppa Però ragazzi Io già vi do uno spoiler Perché si Lo spoiler Va dato assolutamente Questo drago qui Era un drago di livello 4 Non di livello 5 E qua abbiamo anche l'uovo Eccolo qui Bello Sono pienissimo però Ok buttiamo qui un po' di roba E quindi uno mi ha detto Sì cosa vorresti dirci in questa cosa Vorrei dirvi che Perché non andare a affrontare Il drago più forte di tutti Che esista E oltretutto Ah ma è da fuoco questa roba Però è potentissimo Guardate quanta saturazione mi dà No Ragazzi ma questo drago Era di stage 5 Cosa? Ma io penso fosse di stage 4 Ma allora era potentissimo proprio Che poi tra l'altro vorrei esplorare una cosettina Guardate nel saccottino ragazzi Io ho già delle uova di drago Perché tra l'ultimo episodio E oggi c'è stata una live in mezzo E allora non questo drago Ma ho provato a killarne altri E quindi mi hanno già dato delle uova In realtà non ci sono tanto due Uno di livello 4 Uno di livello 5 E nulla Ho già un botto di uova ragazzi Che non so come utilizzare Però allora le scaglie Vanno tenute E queste ci servono I diamanti Lo so ragazzi Io lo so che ho l'inventario incasinato Non ci posso fare nulla Ho tutto quanto pieno Però devo dire Le teste Non ci servono Ne abbiamo anche troppe Le osa sono tutte uguali Questi blocchi qui Sono totalmente inutili Tengo le uova Che andremo a utilizzare In futuro ragazzi Come avete visto Ne abbiamo già una fraccata Ma non finisce qui Perché io qua dentro Ho una cosa da mostrarvi Ovvero questo Fire Dragon Blood Sangue di drago ragazzi Con questo sangue di drago E questa sparina qui Che si può craftare In modo molto molto easy Possiamo fare un'arma leggendaria Ma ne possiamo fare anche un'altra Con il sangue di drago di ghiaccio Che io ho trovato Di già di livello altissimo E poi tra l'altro ci manca L'uovo di drago di ghiaccio Quindi ragazzi Andremo a killare Un altro drago Penso che sia di stage 5 o 4 Non so ancora cosa Ma stavolta di ghiaccio E andremo a prendere Anche in questo caso Il suo sangue In modo da avere Due nuove armi leggendarie Uno potrebbe dire Tanno a cosa servono Queste armi leggendarie Beh intanto Vorrei farci un museo Il vero di chiare tondo Di tutte le armature di drago E di conseguenza Anche le armi leggendarie Ma soprattutto Non mi dispiacerebbe Anche fare la missione Già che c'è una missione E ci dà veramente Tanti tanti soldi Oltre tutto ragazzi Andando a killare i draghi Noi abbiamo risparmiato Quanto era 4.000 8.000 Quanto costava ragazzi Un uovo Non lo so Ma veramente abbiamo risparmiato Tantissimissimissimi soldi Ora ho preso giusto Un po' di cobblestone Perché voglio farmi Una fornace In cui mettere Semplicemente a cuocere Dentro Un pochettino Di sabbia Per farci la boccettina Ragazzi Non è di più Voglio fare la boccettina E poi prendere il sangue di drago Tra l'altro Io andrei anche oggi A far nascere Il piccolo di drago Ma non siamo ancora pronti Per questo ragazzi Non siamo pronti Per diventare Dei papà Non abbiamo la responsabilità Ma vi prometto Che non nel prossimo episodio Ma magari In quello ancora dopo Insomma quando usciremo Dalla Twilight Non so quando Lo andremo a fare Quello si Comunque tre boccettine Non ci rimane Che andare Verso il drago di ghiaccio Tanto abbiamo anche i portali Quindi torneremo qua Quando vogliamo Allora io come punto Mi ero segnato qua Ma dire il vero Ah no Eccolo qua sotto Sono totalmente bruciato Totalmente bruciato Veramente Il problema Guardate qual è Che in questo bioma qua Di ghiaccio La visuale È terribile E come si può vedere Dagli effetti che ho Ovvero questo qua Presuppongo che sia Un drago Di veramente Livello 5 Perché l'avevo capito Solanto il livello 5 Danno gli effetti Così intorno Mentre livello 4 No Il problema è l'armatura Ragazzi L'armatura L'abbiamo completamente disintegrata Quindi Se volessimo Fare qualcosa di decente Dovremmo scapare Un pochettino di roba Ci serve l'esperienza Ragazzi Se questo è l'unico modo Di prendere l'esperienza Va fatto purtroppo Con Mending Ci ripariamo E meno male Che abbiamo Mending Se no ragazzi Al primo drago Potevamo anche uscire Dalla dimensione Ma sapete che vi dico A me che me ne frega Non c'ho tempo Da perdere per l'armatura Veramente Andiamoci diretti E preghiamo Sapete che tra l'altro Io non so se l'ho mai visto Un drago di ghiaccio Forse uno si Ma ecco Di livello alto mai Eccolo lì Che dorme il lezzo Potremmo anche ancorarlo Al muro Come avete sempre consigliato Eh Le catene le ho Volendo si Sarebbe fattibile Ma il muro Com'è che si faceva Era se non ricordo male Con le ossa Di Di drago E questo qua Ah ma è facile Ragazzi Fermi tutti Fermi tutti Proviamo a intrappolarlo Allora Allora un po' di ossa Di drago Eccole qui Vabbè in verità Ne bastano sei E poi le catene Le catene Non le vedo Ma le avevo prese sicuramente Le mie ore stanno In quest'altra cesta Vediamo No raga Non ditemi Non ditemi Che le ho lasciate Da qualche parte Non le ho prese Accidenti Ah Ah eccole qua Ne ho cinque Sotto ho visto Che ce n'erano altre E me ne servo Ah no vabbè E' facile E' facilissimo Guardate Già fatto Già fatto Tra l'altro con questo Cosa qua posso farci Armi leggendarie Seriamente E' interessante Anche questo E' molto interessante Ma non facciamolo Ora non ci interessa Allora Murettino E dovrebbe funzionare Come gli animali Normali In minecraft Però prima Voglio mangiare questa qua E siccome darà fuoco Ok facciamola in acqua Allora scendo giù Voglio ricontrollare qua Ma qua c'era l'acqua Cosa c'era qua fuori Ah no ok Ho una via di fuga In questo modo Perfetto Che cavolo volete Voi andatevene via No raga si è svegliato Abortiamo il piano Piano fallito Via 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 di cattiveria Ma dai raga Ma si è svegliato Subito questo Che cavolo Ma vai via slime No Oh Come ti permetti Sei calmato Si è tornato a dormire Del tipo non mi disturbare Ragazzi però non ci vedo nulla Io non ci vedo nulla qua Piano B Gli tiro una freccia E cerco di portarlo fuori In questo modo Lui si incazzerà tantissimo con me È vero Però metto il murettino Cerco di prenderlo Cosa sono tutti sti cosi Quei sono sponati Ragazzi ma che inferno è qua Oh Ma che inferno è Ma è lui che li fa sponare Forse l'ho preso Forse l'ho preso Avviciniamoci al murettino Mi sa di no Ok L'ho preso L'ho preso Ora ne sono sicuro Ne sono sicuro Ok l'ho agganciato ragazzi Andiamoci Andiamoci Oh Ce l'abbiamo fatta In questo momento Lui è completamente Ancorato al murettino È al guinzaglio proprio Quindi se io mi dovesse allontanare un po' Magari mi accolano in questa direzione Andiamo in un punto più tranquillo Tipo qua Lui Non potrà mai raggiungermi E di conseguenza Non può attaccare Perché è ancorato lì Guardate Guardate Che cosa spettacolare Guardate Questo è grazie ai vostri consigli Lezzissimi Ora possiamo attaccarlo quindi Senza rischiare nulla Bello Beh non sarà lo scontro più avvincente al mondo Ma almeno ce lo portiamo a casa Anche perché ragazzotti Sinceramente Io non mi posso permettere Uno scontro serio Con un drago di così alto livello Che mi va a immobilizzare Mi fa troppi danni Cioè veramente La mia armatura è distrutta Riesco soltanto di creparci E non mi sembra il caso Poi magari Su come finiamo le frecce Mi ci posso anche avvicinare Perché in teoria Ragazzotti Non me ne dovrebbero rimanere molte Però forse ce la facciamo Già che ogni freccia Fa tipo 20 o 30 di danno Ecco no Le ho finite Perfetto Meno male che l'ho detto Meno male che l'ho detto Andiamo però a controllare Quanta vita Magari ne è rimasta pochissima 200 di vita ragazzi Perfetto Perfetto veramente Non mi attaccare Non ci provare nemmeno E invece l'ha fatto E invece l'ha fatto Oh oh Pazzo Pazzo Lasciami giù Lasciami giù 80 di vita ragazzi 80 di vita Scudo instant Oh ce l'ho fatta ragazzi L'abbiamo killato L'abbiamo killato Anche stavolta Wow Perché mi sta ettando ancora Oh 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 Cavolo è che emitta Ragazzi Ma è lui Ma è morto Come fai zio C'è un problema Le mie boccettine Dove sono finite Ragazzi ma io non capisco Se le butto per sbaglio Cosa che potrebbe anche essere O se realmente mi spariscono Non ho Non ho più Dove sono finite ragazzi Ma sta cosa non è normale Vabbè mi ritocca fare tutto Ok Ok Tanto Ormai non si salva il drago Ha già fatto rip Boccettine fatte di nuovo Ci avviciniamo a lui E dovremmo tecnicamente Cliccare solo col destro Ok Lo riempite tutte Tre boccettine di Ice Dragon Blood Ragazzi Perfetto Perfetto Non mi rimane Che prendere quindi Le parti di lui Che sono rimaste per terra Vediamo un po' Cosa ci dà Ok la sua carne Tutte le robettine Il cuore Sì ma io Io vorrei vedere le uova sue Cosa sono Ragazzi l'uovo dov'è Non me l'ha dato lui Ma io lo volevo Quello di ghiaccio Ma ci ha scammato Ci ha scammato Ragazzi Che tristezza va Poi magari sono io Che non le sto vedendo Ma non mi sembra Proprio che ci siano E tra l'altro Nelle chest Anche lì Sapete che io Non penso sia vera La leggenda Magari ci sono Ma sono ultra rare Però intanto Guardate qui Che robettina che abbiamo La madoma Che col Charm estremo E beh Ciao proprio Ma non posso Prenderla però Sta roba Mending anche questo E tu vai via Non mi ci sta più Nell'inventario Guarda Tutto in diamante Beh un'occhiatinale Cesta a questo punto Ce la do Perché sapete com'è Anche solo per curiosità Ci può stare Guardate che spadino Cioè uno arriva qui E si fa l'inventario Bello tranquillo Con tipo le peggio cose Vabbè però A noi non ci interessa niente Tutta questa roba qui Quindi possiamo anche Andarcene Ora la spada La spada la posso fare Anche in questa dimensione O devo tornarmene a casetta Vuole il dragon bone Che ce l'ho E il wither bone E il wither bone Ne abbiamo E anche tanti Mi sembra Però Non penso Di averli qua dietro Ecco appunto Va bene ragazzotti Non è un problema Prendiamo la portal gun Spariamoci un bel portale Così E torniamo subito A casetta Tra l'altro Perché io ho così poca vita Non lo so Ma nel dubbio Rimediamo subito Ora ti prego Puoi farmi tornare a casa Senza farmi crashare Brutalmente Come ogni volta Ti supplico Io mi butto Sperami in bene Dove sono? Dove cavolo sono? Ah Sono dietro casa Beh mi salvo il portale O non serve? No non serve Sì serve serve Perché quell'altro Mi porta Effettivamente C'era la zona bruttissima Mezza maledetta E tutto Che poi comunque Siamo sempre vicini a casa E non è che siamo Poi così lontani Cioè E dietro l'angolo Anche se non c'è nessun angolo Quindi ho preso i due Wither bone Dovrei fare anche qualche chest Per mettere Ste schifezze ragazzi Lo so Lo so Che ho le cheste incasinate Non le voglio nemmeno vedere io Lo so benissimo È un disastro Sono un disastro Un giorno forse Sistemerò tutto Ma quel giorno È ancora lontano Diciamocelo Ho posato un bel po' di roba Dovremmo esserci ora Praticamente devo mettere Due wither bone qua sotto Faccio così Due bellissime sparine Che in verità fanno schifo Perché fanno 8 e 16 Cioè Le spade non sono per niente buone Però andando La mischia in questo Fanno più danno Comunque non sono buone Ci tengo a dirlo Rispetto alla nostra Ma perlomeno ragazzi Facciamo due Achievement Ultra ultra veloci Con due bellissime spade leggendarie Perché ragazzi Bellissime Sono bellissime Legendarie Sono leggendarie Intanto però Le voglio provare Allora Tanta roba Questa qua però Congela i nemici E fa più 8 di danno Ai draghi Di fuoco Mentre quest'altra È il contrario Fa più 8 di danno Ai draghi di ghiaccio Dai praticamente Uccidendo un drago E prendendo il suo sangue Si crea una spada Che è più forte Contro i draghi Opposti a quello Beh al suo perché Come cosa Al suo perché Però considerando che Farebbe 17 di danno Ma soltanto al drago Giusto E normalmente Farebbe 9 e 5 Che praticamente Arrazzondiamo a 10 Beh la mia fa 42 Non c'è assolutamente Scontro Ma belle spade Belle spade Per il momento Come già detto Le metteremo qua Quelle leggendari Ragazzi Andremo a creare Degli stand tipo questi E faremo una stanza Veramente bellissima Anche con tutte le armature Perché no Ma ora È l'omento più bello Quello di ricevere Lo stipendio Infatti andiamo qui E abbiamo 12 quest Completate Quelle delle armi leggendari Ovviamente 350 E una ricompensa random Che dopo andremo a vedere Di cosa si tratta Altre 350 Ricompensa random Questo fish and chips Ok vabbè Sono cose per i cuori extra Se ci va bene Ci arriva anche il cuoricino extra Perché no Non è male Boss Ho killato l'est dragon Tantissima esperienza Soldi di nuovo Altro oggetto Cos'è detto qui L'abbiamo già provato ragazzi È inutile Ma potrebbe avere un utilizzo Non so cosa Abbiamo killato il naga Quindi anche qui Robettina interessante E non so cosa sia E come ultimo challenge Since the last death Ok Penso di aver killato Un qualcosa No 990.000 su 990.000 Forse dei mob Che ho killato Potrebbe anche essere Ma ragazzi Ci ha dato una cesta Ultra leggendaria E questo qui Ragazzi so che sono buonissimi Però il fatto è che Per il momento Quella moda lì Non l'ho ancora affrontata E quindi per me Sono un po' inutili Ma so che sono buonissimi E ne abbiamo già uno Quindi mettiamo qua dentro Questo va caricato E lancia delle dark fireball Va bene Questo è cibo Lo possiamo mangiare Anzi lo mangiamo instant E ragazzi Guardate quanta saturazione ci dà È veramente un cibo ottimo Questo qui Però diciamo che Per craftarlo Ecco Non ho molta voglia Invece Questo Lazo Questa specie di lazo Che abbiamo trovato Serve per mettere Qualsiasi animale Sopra la mia testa Quindi praticamente Qualsiasi mob Io non ho mob Qua intorno Ho i ratti Ma i ratti già ci andavano Di loro in testa Vabbè Prima o poi li troveremo Anzi potremo provare Con uno squid Non so se con lo squid funziona Perché lo squid Comunque sta nell'acqua E invece funziona Ragazzi Guardate Qualsiasi mob Me lo mette sulla testa Ha senso? No Non ha senso Però lo fa Ma la cosa più bella È questo Stiamo parlando Di una loot chest In teoria Molto molto buona Quindi potremmo trovare Delle cose Interessantissime Ma Intanto Guardate qui la mia armatura Ragazzi Che è totalmente distrutta Apriamo i rubinetti E guardate Come si ripara Una meraviglia Veramente Una meraviglia E in caso L'esperienza fosse finita Come facciamo ragazzi Se l'esperienza è finita A ripararci ancora l'armatura Andiamo qui Ripeto Ci svuotiamo Riempiamo di nuovo Tutte le tanniche E poi in questo punto E si fa come se fosse Esperienza infinita È una cosa Bagatissima E lezzissima Ah tra l'altro Questo cos'è? Ah è quello delle spell Ma non mi interessa Ma anche i veri eroi Dormono la notte Poi si alzano E aprono ceste Legendarie No Ragazzi No Non ci credo Non ci credo Non ci credo Abbiamo trovato Un oggetto Così Creative Questo vuol dire Che quell'oggetto Può essere trovato Soltanto in creative Ed è effettivamente Un jetpack Ragazzi Con infinita Energia dentro Per questo è creative Perché in teoria I jetpack Dovrebbero utilizzare O corrente O carburante E consumano anche tanto Questo è di tier 6 Quindi tier altissimo E potentissimo Ma raga Ha energia infinita E sta al posto Della chestplate Ma c'è un modo Per collegarlo invece Alla chestplate C'è Dico Tipo per Non levarmi Un pezzo D'armatura Vabbè No però Oh è velocissimo Ora si Ora si Che possiamo volare Realmente Guardate Che cosa bella Ragazzotti Possiamo volare Non c'è molto da dire Allora Devo dire una cosa Intanto se me lo levo No Conta proprio Zero d'armatura Quindi per certi aspetti L'armatura In su premium È meglio Perché quella lì Mi fa volare Sì Ma mi protegge anche Vorrei far notare Però che questa qua A livello di Verso l'alto Sarà sicuramente Mille volte più veloce Quindi non lo so ragazzi Fatemi sapere Sicuramente però Ho avuto una fortuna Assurda Magari poi anche in vendita Andiamo a vedere Sì ragazzi Il jetpack Costa 50.000 50.000 costa L'abbiamo trovato Gratis Noi Vabbè Vabbè Lasciamo stare Lasciamo stare Che non ci credo E tra tutte le cose Che potevo trovare In questa chest È la più rara Infatti guardate Le cose del black market Le posso comprare direttamente La meno costosa È questa qui Che ci avevamo anche Fatto un pensierino E la più costosa Guardate un pochettino Cos'è Il creative jetpack Tra l'altro L'uovo di drago 8.000 Era anche questo qui Potevamo trovarlo Beh non so che dire Fortuna assurda Veramente Fortuna assurda A questo punto ragazzi Mi fermo bene anche qua Perché veramente Non ho più altro da dire Non riesco nemmeno a crederci A cosa abbiamo fatto oggi Il devasto totale Detto questo Io spero che il video Vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti